Paolo, possiamo iniziare, sì? Aspettiamo la folla che sta in arrivo, la folla? Beh, arriverà, lui sarà la quarta relatrice, mi sembra. Iniziamo questo momento, il secondo tempo di questa giornata, dedicata al dialogo scienza-fede, grazie alla figura di padre Vincenzo Cronelli, un nostro frate minore conventuale, frate scienziato, nel terzo centenario della sua morte, 1705-18. Questa mattina abbiamo visto il contesto di questa figura, il rapporto macrocosmo-microcosmo, come si è sviluppato questa astronomia. Oggi pomeriggio entriamo nel soggetto, nell'autore di questi globi, di questo frate che in convento pregava ma anche studiava e si metteva in rapporto con il sapere contemporaneo. E l'auspicio che faccio a nome anche dei fratti del Salvo Convento, non molti presenti, custode che vi saluta, impegnato in altri settori, è quello che questo approfondimento di padre Vincenzo Cronelli dia uno spessore al dialogo tra discipline, filosofia, teologia, scienze positive. E una cifra che mi sembra cogliere in questo nostro frate è quella fede che è la verità della realtà, una sfida, come il credente, il cristiano in modo particolare affronta, si avvicina alla realtà, fa esperienza, la studia e verifica. Quindi non c'è una opposizione, anche perché questa figura, come sentiremo dai relatori, che verranno presentati dal nostro moderatore, il professor Vincenzo Rossido, che ringrazio, della disponibilità in Roma, anche da altri impegni, verrà fuori come una figura che nell'incontro con la scienza trova anche maggiori motivazioni. Oggi questo frate è enciclopedico, inizia un'enciclopedia francese, dopo la scienza si scosta, si separa dalla fede. Questa è un po' una deriva che va anche studiata. Quando l'episteme, la scienza, ha nel cuore la pistis, cioè la fede, che inizia un discorso scientifico, c'è una fede che dopo verifica, stiamo attendo, diceva un relatore, vediamo ciò che sappiamo. Ho ripreso una congestione platonica, ma in parte è vero, ciò che sappiamo vediamo. C'è una memoria che cerca nella persona. Bene, io ringrazio tutti, voi presenti in modo particolare, e do la parola al moderatore, il professor Vincenzo Rossito. Buonasera, grazie da parte mia, anche sono contento appunto di questo pomeriggio insieme. Mi è stato affidato il compito di introdurre, come diceva Padre Domenico, e di coordinare il tavolo di studio di questo pomeriggio, che vede illustri studiosi convenuti per il centenario coronelliano. Rifletteremo insieme, attraverso la figura di Coronelli, sul rapporto avvincente che unisce fede e scienza, sul rapporto che avvicina la vita religiosa alla vita dell'uomo di scienza. Coronelli non fu solo illustro e studioso, ma anche uomo religioso e di governo per l'ordine dei frati minori conventuali. Viene spontaneo chiedersi di quale scienza parliamo quando pensiamo al Coronelli? In quale ambito di studio scientifico egli fu maestro e precursore? Per rispondere a queste domande vorrei brevemente evidenziare due aspetti in particolare, probabilmente le due anime o vocazioni scientifiche del Coronelli, quella cosmografica e quella enciclopedica. La passione geografica di Coronelli è più di un particolare ambito scientifico. Lo capiamo dallo stupore incuriosito che proviamo a distanza di secoli nell'osservare i suoi globi, che non sono soltanto strumenti utili per il tempo in cui furono progettati. I globi di Coronelli non sono per noi semplici manufatti di archeologia scientifica, non sono soltanto oggetti da museo delle scienze, per intenderci. Esaurite la loro funzione pratica e orientativa nel tempo della geolocalizzazione satellitare, i globi continuano ad affascinare perché continuano a rivelare un aspetto fondamentale della scienza di Coronelli, l'immaginazione, ovvero l'esigenza e la capacità di immaginare il mondo nel momento stesso in cui lo si vuole scientificamente conoscere, nel momento in cui lo si vuole rappresentare. Questo non significa che la scienza coronelliana sia uno sguardo fantasioso sulla realtà, ma che l'immaginare e il rappresentare sono gesti che accompagnano necessariamente lo sguardo dello scienziato, così come non possono abbandonare lo sguardo dell'uomo di fede e di sequela. L'immaginazione ritorna oggi come gesto necessario tanto per le scienze fisiche e naturali quanto per la teologia stessa. Entrambe, scienze naturali e teologia, possono essere visionarie nel senso immaginativo e rappresentativo del termine. Sia l'uomo di scienza che quello di fede non si stancano oggi di formulare immagini del mondo. Weltbild, direbbe Max Weber. Siamo dunque tutti Weltbilder, siamo tutti immaginatori del mondo. Tutti in qualche modo lo rappresentiamo e ce lo rappresentiamo. In questo è possibile sentire un legame assonante e coinvolgente con l'approccio scientifico di Coronelli. La sua arte dell'immaginare, del costruire globi, è vicina più di quanto si possa pensare alla nostra esigenza di immaginare il mondo in cui viviamo, ricorrendo ad esempio alla categoria di globalizzazione. Noi come lui continuiamo ad avvertire l'esigenza della rappresentazione del mondo. Non ci accontentiamo di realizzarne un'immagine fedele. Non ci accontentiamo di una fotografia del mondo. Vogliamo rappresentarlo ricorrendo ad altre immagini, storie e categorie. Penso in questo senso all'ossessione tutta moderna per l'immagine della sfera, in quanto modello da replicare per comprendere le evoluzioni del cosmo che nei secoli si è fatto sempre più piccolo e omogeneo. A tal proposito, l'opera del filosofo tedesco Peter Sloterdijk è quanto mai affascinante. Leggere la storia dell'immaginazione occidentale come una grande sferologia. Dall'immagine della serra a quella della borla non abbiamo fatto altro che replicare all'infinito la struttura sferica per costruire e abitare il mondo. Oggi la sfera è ovunque. Oggi i globi sono ovunque, più che al tempo di coronelli. Per questo la sua cosmografia può essere utile anche per le scienze sociali e non solo per quelle fisico-naturali. La bolla della speculazione finanziaria noi la immaginiamo come una sfera. I rapporti sociali all'interno delle metropoli contemporanee assumono, per dirla con Sloterdijk, l'immagine di una schiuma urbana, anch'essa fatta di sfere evanescenti e precarie. Continuiamo a provare stupore e interesse per l'immagine sferica del globo, perché sentiamo che essa ci aiuta in qualche modo a leggere sia il grande che il piccolo, sia il macroscopico che i molti microcosmi che giornalmente abitiamo. E questo è un pensiero talmente profondo e vivido da essere stato avvertito con un misto di stupore e rimpianto da Paolo VI. Poco prima di morire nel suo pensiero alla morte, Papa Montini scriveva queste parole. La vita, la vita dell'uomo. Questo universo dalle mille forze, dalle mille leggi, dalle mille bellezze e dalle mille profondità. Perché non ho studiato abbastanza, esplorato, ammirato la stanza nella quale la vita si svolge? Quale imperdonabile distrazione? Quale riprovevole superficialità? Questo di Paolo VI è un lascito universale, non solo un rimpianto personale. È un appello pressante e sincero a studiare e a immaginare, come dice lui, la stanza nella quale la vita si svolge. Un invito alla cosmografia in quanto scienza familiare e oserei dire domestica. La cosmografia frequentata da Coronelli e che oggi può diventare scienza sociale e di comune utilità. Continuiamo a provare stupore e interesse per l'immagine sferica del globo perché sentiamo che essa ci aiuta in qualche modo a leggere non solo il piccolo e il grande, ma anche il comune. In continuità con l'immagine della stanza nella quale la vita si svolge, figurata da Paolo VI, oggi Papa Francesco parla, nella Laudato Si, di una casa comune, di un globo che non è più solo stanza, ma casa, che non è fatto solo di appartamenti, ma ha la pretesa di essere casa di tutti e ospitale per tutti. Un'ultima parola per l'altra anima o passione coronelliana, e poi mi fermo, quella dell'enciclopedismo o del sapere enciclopedico. Come sappiamo, la Biblioteca Universale Sacro Profana è la prima grande enciclopedia organizzata in ordine alfabetico, un'opera che evidenzia una visione prospettica sul sapere, che non pretende di racchiudere il tutto della conoscenza umana. Coronelli aveva infatti riservato due volumi per le eventuali aggiunte e correzioni. L'approccio enciclopedico di Coronelli ci parla oggi dell'esigenza di pensare tutti insieme i rapporti tra le scienze e le relazioni, anche umane, che vengono a stabilirsi dentro la comunità scientifica. La segmentazione dei saperi e la specializzazione degli ambiti di ricerca impongono oggi un lavoro comune intorno all'idea di interdisciplinarità e di transdisciplinarità. In quest'opera di ricerca comune anche la teologia viene interpellata. Non per avanzare la pretesa di una scienza sintetica, trasversale o mediatrice, ma perché anche il sapere teologico può oggi entrare, senza precomprensioni ideologiche, in quello che Papa Francesco nella Costituzione Apostolica Veritatis Gaudium definisce un provvidenziale laboratorio culturale in cui la Chiesa fa esercizio dell'interpretazione performativa della realtà che scaturisce dall'evento di Gesù Cristo. Credo che l'immagine della coralità delle scienze presentata dallo stesso Coronelli possa rappresentare oggi un elemento caratterizzante, il contributo francescano alla riqualificazione degli studi ecclesiastici nella prospettiva del laboratorio culturale avanzato da Papa Francesco. Il nostro programma degli interventi vede dunque Padre Luciano Bertazzo come primo relatore. Padre Bertazzo è direttore del Centro Studi Antoniani di Padova, docente di storia della Chiesa nella Facoltà Teologica del Triveneto e membro del direttivo della Società Internazionale di Studi Francescani. A lui la parola e terrà una relazione dal titolo Santa Maria Gloriosa dei Frari il laboratorio umano e culturale veneziano del Padre Coronelli. Bene, grazie. Si, si sente? Bene, buonasera a tutti e iniziamo subito dopo queste parole che hanno collocato in un ambito molto più ampio rispetto a quell'ambito ristretto di Venezia e dell'Ordine su cui si colloca questa mia relazione che come convenuto spero di contenere appunto dentro i 20 minuti al massimo. So che il moderatore ha il compito specifico e brutale di interrompere quando il tempo verrà superato. Cerco di attenermi. Inizio con quello che il Coronelli stesso dice nell'introduzione alla Biblioteta Universale. Questi sono i due sommi benefici che io riconosco dalla mano di Dio. L'essere nato nel trembo di questa Chiesa figlia primogenita del suo amore e l'essere nate nel seno di questa Repubblica di Venezia principale sostegno della sua Chiesa. Questo dice molto. Nel 1950 nel terzo centenario della nascita del Coronelli si teneva a Padova un importante convegno di studio per farne memoria recuperata e celebrata dopo due secoli di un silenzio imbarazzante ma anche comprensibile nel prosieguo di quello che dirò questo silenzio che era sceso su di lui. E sono significative quelle espressioni usate nel 50 dal padre Giuseppe Abate uno dei relatori nell'aprire il suo contributo. diceva cito siamo fiduciosi che questa stessa modesta rievoltazione varrà a suscitare in molti spiriti generosi un senso vivo di simpatia per il troppo dimenticato religioso scrittore che figlio della gloriosa terra veneta e seguace del gran patriarca di Assisi fu tra il setolo XVII e XVIII come un missionario di italianità nel mondo avendo egli portato ovunque diffuso con i frutti del suo ingegno e con l'ardore della sua attività la luce immortale della cultura e della religiosità della nostra amata patria l'Italia. Bisognerebbe conoscere il padre Abate per comprendere anche il retro di queste espressioni. Ci ritroviamo a 68 anni di distanza da quella data per ricordare la data di morte allora era di nascita. Un'occasione per fare il punto su chi è oggi Coronelli dopo un arco di tempo in cui alcune fondamentali opere ci hanno permesso degli approfondimenti di grande spessore pur con diversa interpretazione. Mi riferisco soprattutto all'opera di padre Liberale Gatti su cui parlerà dopo padre Felice che puntigliosamente e in modo anzi molto coreografico da sceneggiatura quasi ha indagato sugli anni del suo generalato 1704 1 1704 e più recentemente il testo di Marika Milanesi uscito presso l'autorevolissima Breppols che puntualizza assai criticamente che sviluppa la sua fama di cosmodrafo e uomo encitropedico capace dice di incantare i suoi contemporanei come ha incantato gli ultimi 50 anni la storiografia relativa alla sua opera usciamo dall'incantamento allora in cui sarebbe stato confinato per tentare di capire allora anche il retroscena della sua presenza ma prima di affrontare il contesto veneziano in cui si trova a operare Coronelli è opportuno credo richiamare i dati essenziali biografici non altrimenti ricordati nelle relazioni di questo seminario convegno figlio del sarto mafeo di Caterina nato a venezia nel 1650 non a Ravenna come chiaramente dimostrato nel 50 dal saggio di Armanno Armao eliminando quella confusione che ne era scaturita con l'omonimo nipote Vincenzo Coronelli e a Ravenna dove si era retato date anche viveva il fratello Francesco ebbe la possibilità di apprendere l'arte di intagliatori di legno che con non poto dovete servirgli successivamente soprattutto nella costruzione dei vari rami e silografie entra Puer Oblatus nel convento minoritico di San Nicolò della Lattuga oggi distrutto non lontano da quello più grande noto e importante di Santa Maria Gloriosa dei Frari professo dopo il noviziato vissuto ad Assisi nel 1666 e in biblioteca c'è il documento che firma la sua professione nel 1671 viene iscritto al vicino convento dei Frari dove compie studi filosofici e teologici concorre nel 72 e risulta vincitore nel collegio Sistino di Roma intitolato a San Buonaventura ottenendo il magistero nel 1674 titolo allora fondamentale per il cursus honorum all'interno dell'ordine titolo che gli permise di essere nominato segretario della provincia del Santo nel 1674 e potendo anche fregiarsi siamo nel pieno del barocco di Manzoniana memoria potendo fregiarsi di quei titoli onorifici sinere nella sostanza ma importanti nel pomposo cerimoniale delle precedenze il titolo era quello di provinciale di Ungheria titolo soppresso ma cui restava il titolo che gli permetteva di partecipare ai capitoli provinciali 24 anni l'età a cui arriva a questo e ha già posto le basi del suo futuro la sua fama si è progressivamente costruita grazie a contatti di alto livello iniziati ben presto capaci di farlo entrare nelle importanti corte del tempo un carrierista intrelazzatore viene dal testo forse della Marica milanesi forse il giudizio è un po' eccessivo siamo buoni certamente un uomo intelligente e capace di tessere una rete di relazioni a tutti i livelli soprattutto quelli più alti un ottimo gestore di se stesso particolarmente nella rete veneziana per tentare successivamente anche oltre i confini della serenissima Repubblica con l'ascesa al generalato del suo ordine dei frati minori conventuali riuscì nell'intento dopo aver costruito una non nascosta forza d'urto con l'esplicita richiesta ai potenti del tempo a cui era noto per quanto precedentemente aveva intessuto e realizzato con i suoi grovi una rete oculatamente ben gestita e un gioco di gettare il sasso e ritirare la mano se possiamo usare questa immagine riuscendo a superare quell'esplicito divieto di raccomandazioni che era presente nelle costituzioni urbaniane del tempo naturalmente dice lui non per interesse carrieristico ma cito a maggior gloria di dio e dell'ordine che veniva a dirigere nel progetto esplicitamente dichiarato di poter avere a disposizione per la sua biblioteca universale un ragguardevole numero di frati dotti di cui l'ordine allora in teoria poteva disporre eletto generale nel 1701 dopo tre anni nel novembre del 1704 veniva destituito per intervento diretto di Clemente XI da sempre pregiudizialmente a lui contrario pur mantenendo il titolo fino alla naturale scadenza del mandato sessennale nel 1707 tutte vicende notissime ben note grazie allo studio di dati e che saranno richiamate poi da padre Felice Autieri ma dopo questo rapido inquadramento biografico dal 1650 al 1704 torniamo a Venezia secondo il sistema vigente allora tra i francestani conventuali ogni frate al momento della sua professione veniva affiliato non alla provincia come oggi ma a un convento esercitando in questo convento una serie di diritti e doveri esplicitati nelle costituzioni urbane che dal 1628 per l'ordine ma a Venezia solo dal 1671 regolavano la vita e l'applicazione della regola francescana costituzioni approvate ufficialmente nel 28 a Venezia dicevo riconosciute solamente nel 71 trovandole finalmente sine preiudizio delle leggi ducali del principe e consuetudini della provincia nonostante ci sia stato per l'approvazione di queste costituzioni urbane un fuoto di sbarramento da parte di vari frati nel timore che privilegi e forme precedenti venissero cassati questo è un dato importante da evidenziare sia nel rigoroso controllo statale di Venezia gelosa delle sue prerodative giurisdizionali come ben ci ricorda nel 1603 il caso di Paolo Sarpi e del suo successore Fulgenzio Micanzio a Venezia la magistratura sopra i monasteri ha sempre funzionato in modo intenso e molto oculato e occhiuto professo ad Assisi come dicevo nel 1666 c'è il documento esposto in questa occasione Coronelli veniva affiliato al convento di San Nicolò della Lattuga o San Nicoletto costruito vicino alla Cagrande dei Frari la sua prima formazione avviene in questa sede tra 1667 e 71 dove lo evidenzio riceve una prima formazione nel campo dell'astronomia sotto la guida del confratello padre Pietro Martire Rusca vestovo di Caorle ma residente nel convento sto convento che era stato fondato per testamento del procuratore di San Marco Nicolò Lion nel 1354 destinato a ospitare frati anziani e benemeriti ma il cui gius patronato veniva affidato a quella magistratura dei procuratori di ultra che sempre esercitarono uno stretto controllo sulla vita del convento ricordo un convento che aveva una nutrita ante biblioteca progressivamente formatasi e che poteva annoverare 36 codici greci già appartenuti al noto frate umanista bellunese maestro di leone decimo quando era ancora cardinale il frato urbano bolzanio considerati alla fine del seicento infruttuosi e che vennero venduti nel 1699 per cento ducati grazie alla mediazione di apostolo zeno il metropansè del tempo a Venezia prima che si trasferisse a Vienna vennero venduti al bibliofilo danese Frederick Rostgaard investendo il corrispettivo in biancheria per il convento in opere teologiche per fortuna i tomi del pappamento storico lo ricordo perché siamo nel flusso appunto del tuoronelli ma provvedendo anche a rilegare altri libri il successo dei globi costruiti per il duta di Parma Ranuccio II Farnese gli permette di entrare nel gran mondo della torte francese di Luigi XIV introdotto dall'ambasciatore di Luigi XIV a Roma il cardinale César d'Estre a Parigi soggiorna per due anni con il compito di costruire due grandi globi terrestre e celeste per la corte di Versailles ma è anche occasione sto parlando del veneziano coronelli occasione di poter essere utile alla sua serenissima repubblica quando nel 1682 passa delle informazioni segrete all'ambasciatore veneto alla torte francese Sebastiano Foscarini circa un trattato segreto che era in percorso tra Francia e Ducato imperiale di Mantua un gesto che gli varrà il riconoscimento da parte degli inquisitori di Stato che ricambiano il favore intervenendo direttamente con il guardiano il superiore dei frari al fine di fargli avere le stanze che vaccheranno in quel momento che si renderanno liberi in quel momento per dire anche gli interventi e il controllo di Venezia solicitando peraltro dopo questo primo favore il coronelli a continuare la sua attività di eventuale spia a favore della Repubblica e per quanto venisse trasfigliato nel convento da San Nicoletto a quello dei frari nel 71 vent'anni dopo tenta inutilmente la nomina guardiano di questo convento e opporsi sono quei procuratori de ultra che si oppongono avendo il gius patronato non essendo figlio del convento secondo la prassi del tempo sono piccoli incidenti un attivismo che si era fatto frenetico nell'intensa attività editoriale collegata a quell'Accademia degli Argonauti che aveva fondato nel 1684 con una non so se intelligente o furbesca struttura o forse entrambe un'intensa attività per la quale all'aiuto di alcuni frati che con lui collaborano e in primis il fedele in tutte le sue traversie padre Gian Battista Moro non gli mancò una capacità di cogliere al Coronelli anche uno degli ultimi momenti di gloria che la Repubblica stava vivendo utilizzando da fedele e suddito della Serenissima il momento opportuno in cui Venezia ancora è capace di conseguire delle vittorie conquistando la Morea e dedicando celebrando il Coronelli il vittorioso generale Francesco Morosini che sarà poi d'oggi nel 1688 sono tutte opportunità gestite con intelligenza che gli permettono nel 1685 di ricevere il pubblico riconoscimento di Cosmodrafo ufficiale della Serenissima gratificato di un onorario molto utile per le sue attività editoriali di 400 ducati a cui quattro anni dopo si aggiunge anche il titolo e il compito di lettore pubblico di geografia con un onorario di 200 ducati è un'attività frenetica che imita e forse anche da quell'editoriale che imita ma anche rompe il monopolio olandese che c'era allora nella produzione di carte geografiche allora quando propone un Atlante Veneto ma entrando in competizione con quest'opera anche nell'ambito editoriale con molti tipografi presenti nella città ladunare ricordo che Venezia era una delle grandi capitali europei dell'editoria un pirata dell'editoria l'espressione può essere forte certo che si muove in un mondo come quello veneziano compulsivo addirittura nella produzione editoriale e con una forte concorrenza era un'attività gestita improprio realizzando una tipografia nello spazio stesso del convento dei frari peraltro era già presente ancora al periodo degli incunaboli 1477 funzionava una tipografia nel convento il che non gli toglieva la necessità di contatti con altri tipografi per acquisto di carta o vendita di libri con cui entra in competizione con ricorrenti processi per crediti non onorati o per questioni connesse e sarà proprio nel fervore editoriale che concepirà quella biblioteca universale di cui appunto si parlerà un progetto ambizioso che non riuscirà peraltro a portare a termine ideato nel contesto di quella cultura enciclopedica presente nella tomosfera del tempo e cui lui porta dentro lo spazio veneziano vista con sospetto da parte dell'inquisizione per le troppe libertà di stampa che il coronelli si prendeva prendendo anche dall'editoria inglese che non soggetta all'inquisizione e anche con una certa ironia degli amici c'è una torrispondenza tra Zeno e Magliabecchi il bibliotecario di Cosimo III dei medici consapevoli che ridevano ridacchiavano tra di loro consapevoli della vastità del progetto e dubbiosi circa il suo compimento e nel pieno della sua attività e della fama ritorno Sciutoli peraltro a livello europeo con gratificazioni raccolte nei suoi due anni in Francia nei viaggi in Germania Olanda e in Inghilterra dove nel 1697 viene aggregato alle università di Oxford e Cambridge sembra venire colto lo chiamo da un delirio di onnipotenza iniziando a costruire quella rete di potenti te lo porteranno a essere eletto ministro generale nel capitolo di Pentecoste del 1701 nel 1696 prima di partire per il gran viaggio per l'Europa poi fino all'Inghilterra aveva tentato di raccogliere le raccomandazioni del gran duca di Firenze Cosimo III di cui appunto anche nel museo ci sono dei documenti estremamente interessanti a questo proposito tramite il famoso suo bibliotecario Antonio Magliabecchi per aveva sollecitato la sua nomina come Vestovo di Chioggia nel 96 tre anni dopo avvia il piano delle raccomandazioni presso il duca di Savoia e il gran duca di Toscana nel desiderio che tengo ad essere promosso al generalato della sua religione allora si poteva farlo oggi magari lo si pensa ma non si può farlo così esplicitamente che unicamente dice sospiro per impiegarmi con zelo al servizio di Dio per poter disporre di molti religiosi letterati a fine di speditamente compiere il mio già intrapreso gran dizionario il 23 giugno del 99 ottiene il titolo di definitore perpetuo dell'ordine che gli apriva automaticamente l'ingresso al capitolo generale questo titolo di definitore generale che proprio per le grazie partitolari e privilegi apostolici che erano contenuti nella bolla papale viene convalidato dal doge dopo un'analisi fatta dai consultori dei jure sempre vigilanti che ogni privilegio concesso non venisse a collidere con le leggi della serenissima bisogna riconoscere è vero che questo zelo per il suo ordine che aveva assicurato di esercitare nelle lettere in cui chiedeva raccomandazioni lo ebbe esercitare una volta raggiunto lo scopo mi limito solo a richiamare la lettera pastorale stampata a tutto l'ordine con cui cercava di ricondurre la vita conventuale a una migliore osservanza della regola esplicitata nelle costituzioni urbane riformando inventerate abitudini e diviazioni e fornendo un preciso piano di formazione religiosa e culturale il convento padovano gli espresse le sue congratulazioni ma non furono sufficienti quando viene in visita generale come la visita canonica proprio in Veneto la forte opposizione si scatena sia a Venezia che a Padova i due principali conventi che si oppongono fortemente a tutti i tentativi di modificare le inveterate consuetudini di questi due conventi in cui c'è tutto un gioco riassumo tra richiesta di protezione da parte per le inveterate consuetudini e la richiesta del Toronelli di organizzare veramente la riforma fu una visita a sintetizzo umiliante per come venne trattato dai fratti dello stesso convento dei frari e non meno faticosa fu la visita canonica svolta nel convento del Santo dove non meno violento fu lo scontro con i fratti decise a difendere le inveterate tradizioni sospeso dal generalato per trame interne non meno feroci di quelle vissute a Venezia rientrava nella città lagunare nella convinzione che l'aria di casa potesse essergli giovevole per la salute contro ordini venuti dal Papa di non trapassare i confini dello Stato Pontificio e per malintesi ordini a lui mai pervenuti non erano mancate talluniosi anche voci insinuanti arrivate fino a Vienna che fosse fuggito con la cassa del convento di Santi Apostoli con le offerte che si stavano raccogliendo per la ricostruzione della chiesa barcollante poi abbattuta e ricostruita dice lui si oppone e in una lettera al cardinale Tolloreto dice mi sono volontariamente eletto per soggiorno gli stretti confini della mia stanza dalla quale mai mi sono partito giustificazioni senza effetto la stessa Repubblica si impegnò a valutare il riconoscimento del breve pontificio di destituzione e ancora di più divenne tolto quegli onorari che continuava a percepire come cosmografo e lettore di geografia e il cardinale Leandro Tolloredo protettore dell'ordine c'è una fitta corrispondenza in cui lui cerca di giustificarsi alla fine gli scrive il cardinale vorrei esserle compagno nei suoi travagli perché l'assicuro che è molto meglio stare in una stanza con i libri che nel Vaticano con i frati alla visiglia del capitolo generale nel mese di marzo il cardinale Bitti gli dichiarava la sua stima e ammirazione per la grandezza d'animo con cui ha sopportato la gravissima prova e c'è anche la testimonianza del fedele Parisotti un frate suo confratello che affermava che il suo fatale sessegno lo tenne in uno stato peggiore di continua morte molto meglio stare in una stanza con i libri che in Vaticano con i frati e fu la decisione che il generale perché tale era ancora fino al 7 scelse nel suo laboratorio infrari in compagnia di pochi scelti frati tra questi l'omonimo nipote si dedica intensamente all'attività di editore di proposte varie per interventi anche di ingegneri idraulico tanto che nel 1717 un anno prima della morte viene chiamato a Vienna dall'imperatore Carlo VI e ricostruisce costruisce quel Donau Canal tuttora esistente vicino al Prater che evitava le alluvioni continue da parte del fiume Danubio al suo tavolo di lavoro chiudeva la sua esperienza terrena nel pomeriggio del 9 dicembre 1718 solenni funerali ottimo panegirico del teatino Agostino Tolotta venendo sepolto nella tomba comune dei frati senza nessun altro segno di riconoscimento della tomba nel suo laboratorio stanza e vado verso la conclusione lasciava un tospico materiale anche prezioso e pericoloso per ordine degli inquisitori di stato sotto la supervisione del nipote Vincenzo Coronelli Junior fu inventariato tutto il materiale presente nella cella del defunto prelevando quei documenti relazioni corrispondenze con ambasciatori che dicono anche della grande rete appunto che il Coronelli aveva costruito asportando soprattutto quei rami contenenti disegni delle piazzaforti e fortezze della Repubblica rami poi una volta stressati resi inutilizzabili dati al guardiano e vennero venduti e si procedette a trasferire dalla biblioteca privata del Coronelli alla pubblica libreria di San Marco circa 2200 volumi considerati di particolare importanza un numero quindi molto più tospicuo rispetto a quello che possono essere presenti nella biblioteca del Satro Convento con tutto il rispetto per Paolo Capitanucci su di lui calò un silenzio durato a lungo troppe erano state le tensioni con il convento natio nel gioco forse poco francescano anche senza forse di poteri e di interessi contrapposti di gelosie che lo avevano reso personaggio chiacchierato e di contesa non solo nell'amata patria ma anche a livello di ordine in parte io credo lui stesso vittima di se stesso in quei giochi di potere che volle avviare nella scalata generalato e nell'invidia suscitata data l'autonomia delle relazioni che aveva progressivamente costruito nella rete europea dopo la sua morte Venezia visse i suoi ultimi bagliori non perché era morto lui ma perché l'evoluzione storica della storia di Venezia ed è interessante la descrizione di un quadro opera di Pietro Longhi datato 1761 dal titolo La Frateria di Venezia in un foglio staccato dal retro durante il restauro di questo quadro venivano i 22 ordini religiosi presenti in città venivano catalogati in tre categorie il primo ordine la prima categoria quelli che godono buon tempo il secondo ordine categoria quelli che studiano terza categoria i frati divoti questa poteva essere la comunis recepzio di ben nove ordini su 22 collocati tra i buontemponi e tra questi purtroppo ahimè anche i conventuali dei frari nella Venezia della metà del settecento non inseriti nemmeno secondo una ricorrente autotoscienza dell'ordine tra quelli che studiano un giudizio foriero dell'intervento soppressivo che venne poi applicato da Venezia nel 1769 con una delle ripetute soppressioni di conventi e i frari giusto per dire il contesto anche veneziano oltre alla sua biblioteca una biblioteca nutrita non mancava sede di uno studium la biblioteca veniva citata e ritordata per la ricchezza del patrimonio librario frutto anche del secolare rapporto tra libro e l'intesa attività editoriale veneziana ancora consistente come si può dedurre dai cataloghi redati al momento della indemaniazione nella soppressione napoleonica del X cataloghi che danno una consistenza di circa 6.000 volumi in foglio quasi tutti rilegati in pergamena e una nutrita serie di manoscritti che conosciamo dal catalogo del Tommasini del Seicento si rompe oggi il lungo silenzio sul Coronelli non lo so certamente a distanza di tre secoli per ricordare una presenza significativa di una passione che lo animò nella rilettura del liber natura e della creazione indagata con codici interpretativi che riflettono quei codici interpretativi del suo tempo dove allora la sfera come diceva il moderatore all'inizio ha un suo particolare significato grazie della vostra pazienza grazie padre Luciano per un intervento così denso e puntuale e lascio subito la parola a padre Felice Autieri che è il nostro secondo relatore padre Felice è docente di storia della chiesa antica e medievale di storia della chiesa moderna e contemporanea a Napoli presso la pontificia facoltà teologica dell'Italia meridionale ed è docente di storia del francescanesimo all'istituto teologico di Assisi padre Autieri ci parlerà di un intervento dal titolo padre Vincenzo Coronelli francescano e uomo di governo buonasera a tutti vorrei iniziare il mio intervento ricordando una citazione del Giacomo Martina Gesuita professore di storia della chiesa riferendosi al clero veneto dicendo che è un clero abituato a comandare e che gradiva soprattutto essere obbedito un pochino questa definizione come ogni generalizzazione è sempre limitante ovviamente però per quanto riguarda il Coronelli mi sembra che la citazione del Martina paregesuita passata a miglior vita sia quanto mai opportuna al riguardo io tratto il Coronelli come uomo di governo cercherò anche di delineare l'uomo perché spesse volte c'è l'esaltazione dell'uomo di governo dimenticando soprattutto l'uomo che poi dà senso e significato a quello che è la modalità di esercizio del potere e sicuramente ciò che tradì il Coronelli lo definiremo noi oggi l'autoreferenzialità e poi vedremo perché il Coronelli il 1701 termina il mandato del padre Felice Rotondi nell'ordine dei frati minori conventuali il mandato di un ministro generale dura sei anni quindi Rotondi termina il suo mandato e indice come Prassi prevedeva il capitolo generale per la Pentecosta del 1701 il Coronelli in quanto assistente generale come ha detto il mio confratello padre Luciano precedentemente partecipa dei jure cioè di diritto al capitolo generale che inizierà il 4 maggio del 1701 e l'elezione del ministro generale era prevista per la vigilia di Pentecoste quindi 14 maggio 1701 già dalle prime battute vengono a delinearsi le figure su cui poi si sarebbe giocato tra virgolette l'elezione il padre Vincenzo Coronelli appunto da Venezia e il padre Carlo Baciocchi da Cortona della provincia toscana entrambi non soltanto per capacità ma anche sostenuti da correnti che ne avevano anche imposto il nome il Coronelli attraverso amicizie con potentati d'Europa ma anche con forti agganci nella cuia romana ma se il Coronelli poteva contare su agganci nella cuia romana ancora più forti il Baciocchi che poteva contare sull'amicizia personale con il Papa Clemente XI tuttavia il giorno delle elezioni ecco si giunge al clou con la votazione finale su 71 partecipanti frati aventi diritto al voto il Coronelli ottiene 40 voti 30 voti il Baciocchi e una scheda bianca il Coronelli è eletto ministro generale tuttavia Clemente XI impone il Baciocchi in quella che era la seconda figura giuridica dell'ordine procuratore generale dell'ordine di fatto perché il Coronelli aveva sì umanamente parlando ottenuto la maggioranza dei voti ma la maggioranza sostanzialmente risicata per cui il Papa intervenne tra l'altro imponendo senza diritto di replica il Baciocchi per un principio molto preciso l'unità e la comunione dell'ordine il Coronelli prese atto di questa cosa e andando comunque diritto per la sua strada il primo approccio importante quella che era la prassi prevista ecco lo scrivere l'epistola la lettera all'ordine in cui il Coronelli delineerà quello che saranno appunto il suo programma di governo programma di governo che poi cercherà di attuare attraverso tre che vorrei appunto delineare in tre punti fondamentali primo punto fondamentale il Coronelli si definirà custode del carisma francescano quindi fondamentalmente traducendo un linguaggio più concreto e più diretto osservanza della vita religiosa attraverso i voti vita liturgica e vita comunitaria lotta agli abusi e sostegno alla formazione culturale e spirituale delle nuove leve come attuerà il programma attuerà il programma e ci riuscirà in parte fino al 1704 anno della sua restituzione attraverso la visita canonica alle giurisdizioni dell'ordine applicando quello che era il principio della verifica concreta in loco delle sue direttive quindi inizierà una serie di visite canoniche in cui il Coronelli cercherà di verificare quanto rispetto alla lettera ma soprattutto che io vi ho inviato ai frati dell'ordine ma anche rispetto all'osservanza delle costituzioni urbane avvenisse all'interno delle singole giurisdizioni prendo come riferimento concreto di questa visita appunto la visita che gli compì al Sacro Convento dove vennero alcuni passaggi importanti ma anche delle modalità di azione del Coronelli che non è che gli facilitarono la costruzione di relazioni positive con i frati ecco soprattutto nello specifico della verifica della regolare osservanza della vita religiosa ecco quello che è il primo punto il custode come egli si definì del carisma francescano e quindi la verifica avvenne attraverso la regolare osservanza il controllo dell'economia del convento e soprattutto la verifica del coro cioè se i frati venivano a pregare e è interessante notare questo a modo di cronaca anche per non annoiare l'ascolto quello che avvenne proprio la prima il primo giorno che iniziò la visita canonica qui al sacro convento 28 luglio 1701 dove non dispensò dalla preghiera notturna che a quel tempo era mezzanotte lui arrivò intorno alle 22 con mancanza di garbo invitò il superiore a mandare i frati a dormire che non lo aspettassero e diede l'appuntamento al coro nel coro mezzanotte prevedeva l'ufficio mattutino l'ufficio lettura e l'odi e 30 minuti di meditazione che fatte di giorno potete capire ci può anche stare fatto da mezzanotte a luna insomma può creare qualche problema oggettivo e non si può biasimare il fatto che metà comunità fosse sostanzialmente assente non disse nulla il giorno dopo il refettorio dopo aver benedetto i frati iniziò l'iriderguì con una diciamo con una punta di aggressività tale che si concluse imponendo ai frati assenti dal coro di mettersi in ginocchio e chiedere pubblicamente scusa voi capite sono i presupposti per costruire relazioni durature e amichevoli con il prossimo insomma detto questo detto questo ecco il coronelli fa capire questo ci fa capire la verifica dell'attuazione delle sue norme ma questo perché 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 questa durezza della vita di preghiera perché gli partiva dalla semplice constatazione che l'osservanza della regolare vita comune partisse innanzitutto dall'ottemperare alla vita di preghiera cioè quello che noi diremmo oggi il rapporto del consacrato con Dio da cui scaturisce l'osservanza dei voti e la vita comunitaria che non soltanto si viveva attraverso l'ottemperanza della preghiera del coro ma anche del refettorio e della e della cosiddetta ricreazione comunitaria subito dopo pranzo e subito dopo scena guardate bene anche verificando le altre visite canoniche fatte nelle altre province dell'ordine si verificarono interventi a dir poco drastici di questo genere però quello che è interessante è che il coronelli visitò anche singolarmente le stesse stanze dei frati per verificare soprattutto la vita di povertà e la vita di obbedienza lasciando la castità al direttore spirituale e al confessore come è giusto che sia ma è interessante notare anche la verifica qui a Stato Convento questo venne anche a Napoli a Firenze e anche a Roma ai Santi Apostoli stesso visitò stanza per stanza per verificare se le stanze ci fossero un'autentica vita di povertà è interessante notare anche che nella sua relazione distinse in modo molto chiaro che una cosa era la povertà e una cosa era la sporcizia evidentemente in qualche stanza c'era un po' troppa polvere evidentemente che non erano cioè sinonimi il fatto di carità noi oggi ci ridiamo però voi capite essere così capillari è un po' tra virgolette un po' pestare i piedi e guardate che questi elementi che vi sto dicendo fece sì che molti di quelli che ebbero furono ridarguiti pubblicamente come si dice in gergo si conservarono la cosa per poterla poi ricambiare al momento opportuno e perché questo può capitare nella vita detto questo un altro aspetto rilevante è quindi la vita di povertà obbedienza e quindi anche la dimensione del vita di corale dei frati vita di preghiera ma un altro elemento importante fu anche quello dell'economato interessante notare come chi non delegasse con sé portava sempre il socio dell'ordine sarebbe oggi l'assistente generale volle controllare anche i registi dell'economia personalmente e verificare se in quel convengo tra le entrate e le uscite ci fosse una gestione morigerata del denaro principio questo assolutamente valido perché laddove lui constatò questo avvenne nella vita provincia Umba la provincia marchigiana abusi del denaro intervenne imponendo drastiche punizioni il principio della pedagogia della punizione che a quel tempo era un elemento era un dato di fatto abbastanza acquisito la punizione che diventava pertanto motivo di riflessione immediata diretta e concreta per chi veniva meno a quelli che erano gli impegni assunti con la professione religiosa questi esempi concreti ci fa capire un pochino l'approccio del coronelli per l'osservanza l'osservanza della vita regolare e anche come gli cercò attraverso il principio della verifica di contrastare lottare contro gli abusi all'interno della vita religiosa e su questo principio ritengo che non si possa se non essere d'accordo quello che fu discutibile fu la modalità di affrontare le questioni e nella lotta contro gli abusi è anche importante rilevare che egli volle pretese che le nuove leve cioè le giovani vocazioni fossero formate a vivere in modo molto chiaro quelli che erano i principi della vita religiosa però quello che è interessante nelle lettere che egli inviò in modo particolare a quello che era lo studio generale dell'ordine ma anche ai ministri provinciali l'elemento innovativo del Coronelli rispetto appunto agli altri ministri generali i quali dal concilio di Trento in poi battevano in modo molto chiaro sulla riforma della vita religiosa all'interno dell'ordine fu anche un aspetto che per certi aspetti è originale e gli rimarca il fatto che i giovani debbano essere formati ad una dimensione ecclesiologica dell'ordine mi spiego cioè imparare non soltanto ad essere giustamente fedeli agli obblighi della vita religiosa ma a inserire la dimensione carismatica e quindi di una coerenza di vita all'interno di un'obbedienza ecclesiale cioè l'ordine ha senso e significato il rapporto alla chiesa all'obbedienza al romano pontefice alla cuia romana ma anche ai vescovi del luogo dove i frati si trovano a vivere e operare attraverso l'obbedienza e la comunione questo è un dato di fatto assolutamente innovativo mentre invece è interessante notare che il principio della verifica l'attuò anche su un altro aspetto rilevante dei coronelli cioè la formazione dei giovani religiosi dell'ordine sia per quanto riguarda l'aspetto spirituale sia per quanto riguarda l'aspetto culturale e per quanto riguarda appunto gli studi dell'insegnamento direi coronelli cito testamente essendo l'uno e l'altro quindi formazione spirituale formazione culturale principali incombenze del nostro ministero di promuovere con vero zero gli studi fra i nostri religiosi cioè la cultura non fine a se stesso una cultura che doveva far sì che il religioso formato dei seminari dell'ordine fosse pronto in sostanza ad affrontare le sfide culturali e spirituali del tempo quello che è interessante ancora sottolineare è che egli disse in modo molto chiaro che la capacità e l'attitudine allo studio per i religiosi candidati agli ordini sacri e anche gradi accademici appunto lo studio fosse anche un criterio di selezione dei candidati cioè se non supera l'esame non ha vocazione quindi era o a mandare via oppure diventare fatelo religioso questo in sostanza questo perché ovviamente essendo la cultura un suo cavallo di battaglia aveva questa sua chiave di lettura che oggi appare anche abbastanza discutibile ma quello che è rilevante è lo zelo per la formazione spirituale e culturale dei religiosi non soltanto culturale non per niente prima io ho accennato a come egli rimarcasse anche la formazione spirituale dei religiosi sin dal noviziato educati alla regolare osservanza agli impegni della vita religiosa a cui aggiungo in modo particolare per il noviziato la formazione alla sacra eloquenza cioè al saper predicare saper parlare quindi saper parlare non soltanto in virtù della predicazione ma anche attenzione soprattutto per coloro che poi fossero un giorno incaricati nella responsabilità della docenza in 1704 è l'anno delle dimissioni come accennavo prima il coronelli non fu un uomo capace di costruire relazioni ripeto la difesa del carisma e anche la necessità di far crescere l'ordine culturalmente e spiritualmente un principio sul quale si può convenire quello che mancò al coronelli è importante sottolineare questa cosa fu appunto la capacità di sapersi rapportare autenticamente i frati e molti di questi di fronte alle umiliazioni a cui li sottopose pubblicamente non ebbero problemi ad avere diremmo noi oggi una memoria molto molto lunga del resto il baciocchi seppe anche abilmente costruire e anche giocare sui dissapori che il coronelli seppe costruirsi intorno a sé tra l'altro la scusa per cui fu cosetta le dimissioni sono anche abbastanza banali fu accusato addirittura di furto di reliquie qui a Sacro Convento e di aver tra l'altro anche stampato opere a Venezia con denaro personale quindi contravvenendo a quel voto di povertà che lui stesso aveva proclamato e difeso e talvolta anche per il quale aveva umiliato una serie di frati ecco come spesso capita per una legge del contrapasso quella stessa durezza con cui li aveva trattato molti frati fu trattato lui stesso in quanto fu esautorato dal generalato con una lettera che il papa Clamento XI mandò a lui lettera che non prevedeva nessun tipo di giustificazione cioè accetta questo senza diritto di replica mantenne il titolo fino al 1707 ma come ha detto il mio confratello padre Luciano fu costretto a lasciare Roma e a tornarsene quindi a Venezia la serie di peripezie che ha accennato accennato appunto precedentemente padre Luciano quindi per una strana legge del contrapasso in fondo come si era rapportato al prossimo fu trattato allo stesso modo perché ripeto la vita è una ruota che gira che cosa ci può e concludo offrire il Coronelli anche come esperienza di vita o come lezioni di vita la storia magistra vite ripeto l'autoreferenzialità l'incapacità di cogliere le sfumature soprattutto nel capire che si può difendere i valori e li si può testimoniare ma l'essere esigenti che è un valore importante è una cosa l'essere intransigenti è ben altra cosa e diventa sempre una forma patologica di sapersi comportare con gli altri allora i valori sì esigenti sì intransigenti no questo potrebbe essere una conclusione utile per noi anche per un nostro modo di approcciarci di approcciarci scusate alla vita e capire che forse una parola detta con garbo e carità può valere sicuramente molto di più di un rimprovero grazie grazie Padre Felice per questo profilo così interessante io proporrei un avvicendamento tra i nostri altri due relatori che sono Fabrizio Bonoli e Flavia Marcacci che inviterei ad ad accomodarsi e quindi dal dal profilo diciamo così più di orientamento storico religioso del Coronelli passiamo all'aspetto ad un aspetto diciamo così più relativo all'uomo all'uomo di scienza vorrei lasciare la parola a Fabrizio Bonoli che insegna storia della cosmologia presso il dipartimento di fisica e astronomia dell'università di Bologna a lui l'incarico di parlarci di Vincenzo Colonelli descrittore o studiore del cosmo o studioso del cosmo punto di domanda prego grazie io avrei anche qualche avrei anche qualche sì ok se mi può passare il telecomando se riusciamo a farlo funzionare ci proviamo grazie di avermi invitato a questa giornata di incontro sì vedo che questo anche stamattina ci hanno avuto qualche problema va bene allora veniamo a noi correva l'anno 1693 come stamattina abbiamo già visto con qualche intervento e il cardinale Cesare Destre presentava in dono a Luigi XIV due enormi glovi mirabilmente realizzati dal veneziano padre Vincenzo Coronelli appositamente fatto venire a Parigi dall'Italia era molto chiara al cardinale l'importanza del perfezionamento delle conoscenze geografiche per una nazione in rapida espansione qual era la Francia dell'epoca una migliore definizione dei territori arrecava infatti ovvi vantaggi politici e militari ed era altrettanto chiara al cardinale come quel perfezionamento della cartografia fosse strettamente legato al rapido sviluppo che un'altra disciplina stava avendo proprio in quel secolo l'astronomia non a caso infatti anche un altro italiano era già stato chiamato a Parigi Ligure Gian Domenico Cassini professore di astronomia a Bologna per contribuire all'edificazione dell'Observatoire Royale e anche l'Inghilterra con la quasi contemporanea fondazione a Greenwich del Royal Observatory dedicato al progresso dell'arte nautica aveva voluto esplicitamente dichiarare il suo interesse per l'astronomia in quanto disciplina fondamentale per lo sviluppo della geografia della cartografia della navigazione e così al cardinale Destre sarà sicuramente parso un'ottima idea il fare omaggio al re più grande del mondo delle raffigurazioni più grandi del mondo una coppia di globi terrestri e celesti di circa 4 metri di diametro cavi all'interno e capace di sostenere il peso di 30 uomini quello terrestre per illustrare anche le più recenti conquiste della dinastia francese nella vastità dell'orbe terraqueo quello celeste era a figurare l'ancora più grande vastità del creato e la moltitudine di lucentissime stelle tutte d'ottone dorate a fuoco e rappresentate nella loro posizione in cielo come appariva all'epoca del momento glorioso della nascita di Luigi XIV visto che dobbiamo parlare qui di Coronelli e dei suoi legami con la scienza del cielo possiamo chiederci dove aveva studiato astronomia Coronelli e qual era lo stato delle conoscenze astronomiche alla fine del Seicento sappiamo che nato a Venezia abbiamo sentito prima e trascorsa la giovinezza Ravenna all'età di 15 anni ritorno a Venezia prosegue gli studi poi entra nell'ordine dei frati minori conventuali e così via appena a sedicenne pubblica la sua prima opera che è il calendario perpetuo sacro profano dove sono fornite delle informazioni astronomiche come le date delle feste mobili ma anche meno astronomiche però sicuramente di pratica utilità e questo sarà sempre nello stile di Coronelli cioè dare delle notizie che siano pratiche che siano utili cioè i giorni delle fiere dei mercati i giorni in cui partivano da Venezia i portalettere per i vari paesi d'Italia ed Europa e così via negli anni successivi studi astronomia forse sotto il magistero del padre Pietro Martire Rusca e perfeziona poi lo studio di Euclide sotto la guida del conte Francesco Damiani non abbiamo informazioni dirette sui programmi astronomici degli studi astronomici di Coronelli però possiamo immaginare che non fossero molto diversi da quelli delle università e di altre congregazioni religiose dell'epoca cioè la geometria di Euclide all'inizio gli algoritmi il computo la gnomonica l'uso degli strumenti astronomici per concludere con lo studio sulla teoria dei moti dei pianeti forse su un trattato recente quello del gesuita Giuseppe Biancani la sfera del mondo nel quale venivano date descrizioni abbastanza attente dei vari sistemi cosmologici compreso quello copernicano anche se per ovvi motivi di conformità al santo ufficio vi si dichiarasse la contrarietà al moto della terra durante poi le lezioni di filosofia e della natura e di teologia lo studente era introdotto a una valutazione filosofica e non puramente matematica dei vari sistemi cosmologici poi a questi studi iniziali giovanili dobbiamo aggiungere le frequentazioni sia personali che pistolari che Coronelli ha avuto con numerosi astronomi rilevanti dell'epoca da Cassini come abbiamo visto che era a Parigi quando lui si recò a costruire i grandi globi a Gemignano Montanari all'inglese Alley a Monsignor Giovanni Ciampini fondatore Roma di un'accademia fisico-matematica di un certo rilievo nei tempi in cui Coronelli operò tra la fine del 600 e l'inizio del 700 la conoscenza stava subendo un'accelerazione fantastica l'astronomia in particolare era passata da una scienza seguita e coltivata da singoli studiosi a una disciplina organizzata e istituzionalizzata in centri dotati di appositi finanziamenti finanziamenti finalizzati a pratica e utilità le osservazioni astronomiche come abbiamo detto erano le uniche in grado di consentire una corretta riproduzione cartografica dei territori ed erano le uniche ci pensava che avrebbero consentito di risolvere il problema cruciale e drammatico per tanti aspetti anche della determinazione della longitudine in mare e fu in quest'epoca proprio che gli astronomi si avviarono verso la piena comprensione del sistema del mondo iniziando a eseguire una vera e propria misura del cosmo al di là delle accettazioni o delle scomuniche ufficiali dalla metà del 600 l'astronomia è ormai decisamente avviata verso una scelta eleocentrica e non geostatica anche se ancora mancavano le prove definitive che arriveranno poi nel corso del 700 il 600 si chiude anche con la nascita forse potremmo dire con l'ammodernamento favorito proprio dallo sviluppo dell'astronomia osservativa dei due discipline la geodesia e la climatologia ma soprattutto il 600 si chiude con la pubblicazione nel 1687 dei principi a matematica di Newton e con i grandi sviluppi che questi portano praticamente a tutte le discipline bene cosa si trova di tutto questo nell'opera di Coronelli in tutta la sua produzione vastissima avete sentito quanto era il suo interesse produttivo quasi 150 opere nei campi più svariati oltre al calendario giovanile calendario perpetuo per studiare nell'eventuale figura di studioso delle questioni del cosmo possiamo segnalare il corso geografico la cronologia universale l'Atlante Veneto il libro dei globi l'epitome cosmografica e le parti astronomiche dell'incompiuta enorme biblioteca universale beh dei nuovi sviluppi e delle nuove direttrici della ricerca astronomica non si ritrova praticamente nulla negli scritti di Coronelli non vi è traccia delle recenti misure della terra eseguite da Picard non vi è traccia dei lavori di cartografia e di astronomia di Cassini a Parigi della determinazione della distanza terra sole e quindi per la prima volta della reale distanza fra tutti i corpi del sistema solare della misura dell'obliquità dell'eclittico delle nuove tavole della rifrazione astronomica della divisione dell'anello di Saturno e dei suoi nuovi satelliti non c'è una parola su Newton e Galilei viene ricordato solo relativamente al suo cannocchiale e ovviamente al fatto che divenne ovviamente al fatto che divenne reo dell'inquisizione nel pontificato d'Urbano VIII onde posto in progione fu costretto a ritrattare Coronelli non poteva non conoscere tutte queste novità che erano di grande rilievo nel campo di quella scienza che li chiama cosmografia cioè descrizione del cosmo aveva frequentato l'ambiente di Parigi aveva conosciuto Cassini e gli altri astronomi abbiamo detto Dominiano Montanari era stata a Oxford a Cambridge aveva avuto dati di prima mano da Halley ma evidentemente queste nuove conoscenze per lui sembrano quasi come se fossero dei dettagli dettagli che esulavano dallo scopo dei suoi lavori o non apparivano importanti per i suoi lettori certamente questi dettagli della nuova astronomia orientati come erano a dare una nuova descrizione non geocentrica del cosmo gli potevano anche sembrare pericolosi sia per i propri reali convincimenti religiosi che per la carriera che come abbiamo visto con impegno e anche con difficoltà cercava di percorrere nell'ordine non è che noi oggi pretendiamo che lui allora accettasse quelle nuove idee prima di tanti altri e prima che ci fossero le verifiche sperimentali e osservative ma esaminando la sua opera astronomica o le parti astronomiche delle sue opere diciamo che ci avrebbe fatto piacere trovare qualcosa di più di un lavoro sicuramente enorme e ambizioso ma anche dal carattere di un vecchio sapore come enciclopedico piuttosto che di aggiornamento se non proprio di ricerca possiamo prendere come esempio di questo suo atteggiamento proprio l'epitome cosmografica del 1693 il libro non era nato come testo delle sue lezioni di astronomia e geografia dell'università veneziana delle procuratie come verrà presentato poi anche da lui in seguito ma era nato come una sorta di manuale di uso pratico per l'utilizzo dei globi e delle tavole geografiche che il coronelli produceva in quantità potremmo dire oggi una specie di manuale di istruzione secondo vari autori del secolo scorso l'epitome costituirebbe il prototipo dei moderni manuali di geografia fisica naturale politica e anche il primo manuale di astronomia e di geografia dei tempi moderni devo dire che personalmente non sono affatto d'accordo con queste affermazioni perché l'impressione che secondo me si ricava dall'epitome cosmografica almeno dalle prime due parti dedicate all'astronomia e alla geografia la terza sui globi merita un discorso a parte è che si tratta piuttosto dell'ultimo manuale di astronomia e geografia dei tempi antichi invece che del primo dei tempi moderni il carattere è proprio quello di un manuale di rapida e semplice consultazione come dicevamo prima un libretto di istruzioni dove manca del tutto uno sguardo anche se veloce ai nuovi sviluppi strumentali osservativi e interpretativi lo stesso atteggiamento del coronelli o comunque simile a questo lo si era riscontrato anche nei confronti della geografia da un punto di vista delle nuove scoperte il frate veneziano era sicuramente attento ed aggiornato ma non pare che abbia in qualche modo preso parte o quantomeno mostrato interesse o ricordato alcune delle questioni che erano di attualità del tempo all'epoca iniziavano gli studi di geografia fisica e quelli di oceanografia fra l'altro connessi al problema che era allora di grande attualità non solo allora dell'età e dell'origine della terra il che implicava la ricerca di una coerenza o meno fra le esposizioni scientifiche e i testi biblici anche in questo caso quindi problemi di tipo religioso e anche di carriera devono aver svolto un certo ruolo nell'atteggiamento di coronelli di fronte a questa nuove interpretazione o atteggiamenti scientifici la sua posizione al riguardo peraltro è chiarissima questo non è una una critica al coronelli perché non poteva essere diversamente per un ecclesiastico dell'epoca e la sua posizione può essere esemplificata da alcune affermazioni tratte da due da due opere diverse riguardo al problema della materia e fabbrica del mondo secondo gli moderni nell'epitome cosmografica egli sostiene che vi sono anche delle altre opinioni ma noi conformandoci all'ammaestramento della sacra scrittura concluderemo che il mondo fu creato dall'onnipotente signore in sette giorni e nella cronologia universale precisa che Dio creò il mondo e tutto quello che contiene nello spazio dei sei giorni 4.004 anni avanti la nascita di Cristo oggi potremmo dire se mi permettete un attimo di ironia tutto questo con grande soddisfazione degli attuali seguaci del creazionismo ritornando alla sua posizione nei confronti dei diversi sistemi del mondo nell'epitome dichiara che varie sono le opinioni noi riferiremo quelle di Tolomeo di Copernico di Ticombra e Descartes autori famosi e che hanno tutti avuto i loro seguaci nella breve descrizione dei vari sistemi dà più spazio a quello copernicano anche se si intuisce che ci sia una preferenza per il sistema di Ticombrae che è una preferenza peraltro ampiamente diffusa nell'ambiente non galileiano del Seicento sull'onda dei poderosi lavori del gesuita Giovanni Battista Riccioli poi prosegue sempre discutendo della distanza della terra dei cieli e dei pianeti secondo gli astronomi antichi e moderni e a mostrare la sua capacità esemplificativa l'abilità con cui cerca di spiegare le cose e anche il pubblico quindi a cui è rivolto visto il tipo di esempi che fa appare interessante il brano in cui parla della distanza delle stelle fisse gli astronomi moderni aggiungono che dalla terra fino alle piccole stelle siano 129 milioni 479 mila e 125 miglia distanza così grande che se Adamo vivesse ancora e dalla sua creazione avesse potuto camminare verso il cielo 36 miglia al giorno che non sono poche non sarebbe per anco arrivato alla concavità dell'ottavo cielo cioè alla sfera delle stelle fisse oppure se una palla da cannone fosse nel luogo dove stanno situate le stelle e che questa venisse a cadere quando anche ogni ora col delay precipizio misurasse lo spazio di 400 miglia impiegherebbe più di 30 anni prima di giugno era la terra quindi queste sono le distanze enormi a cui si trovano le stelle da noi a cui si trova la sfera delle stelle fisse a quella distanza il firmamento delle stelle fisse quindi dovrebbe ruotare per fare un giro in 24 ore a dare il giorno e la notte dovrebbe ruotare così rapidamente sostiene Coronelli che una stella dovrebbe fare 4528 miglia nello spazio di un battere di polso che per osservazione di Cardano batte 4000 volte in un'ora celerità così grande che non potrebbe ugualiarsi da un tiro di cannone perciò molti giudicando questo moto troppo violento e incompatibile con la natura hanno stimato meglio per salvare le apparenze celesti supponere che la terra sia mobile sembra che per un attimo si stia abbandonando all'idea di una terra in movimento però si riprende subito affermando che il che però resta riprovato dalla Santa Cattolica Chiesa nuovamente non vogliamo qui sollevare delle critiche a Coronelli e alle sue idee cosmologiche che peraltro erano comuni a molti altri astronomi dell'epoca solleva invece delle forti perplessità la sua posizione nei confronti dell'astrologia non si dichiara esplicitamente a favore di credenze astrologiche perché questo alla fine del seicento avrebbe potuto sollevargli delle critiche nell'ambiente scientifico e non solo visto le numerose condanne della Chiesa contra astrologos a partire dal concilio di Nicea fino alle più recenti bolle papali di Sisto Quinto e Urbano Ottavo ma quando parla della fascia dello zodioco oppure prende in esame le costellazioni o i singoli pianeti il discorso astrologico è sempre presente in tutti i suoi aspetti gli astrologi e gli sostiene in qualità di fisici vogliono rendere ragione delle virtù naturali dei raggi dei corpi celesti cioè i corpi celesti hanno virtù naturali e quindi sono i fisici cioè gli astrologi in quanto fisici in grado di spiegarle e quindi prosegue spiegando che Saturno è mascolino melancolico e distruttore di ogni cosa Di Giove ricorda le quattro picciole stellette ma senza citare le osservazioni di Galileo e neanche le misure accurate di Cassini per poter utilizzare i satelliti medici per la determinazione della longitudina a terra però sottolinea il fatto che il grande pianeta Giove influenza prudenza bontà umanità castità inclinazione alla religione la luna regola le affezioni del corpo e dello spirito e così via per gli altri pianeti e per le costellazioni spende qualche pagina nell'epitome a spiegare l'uso dell'astrolabio e della sfera artificiale armillare spiegazioni che peraltro si ritrovavano in tutti i testi di astronomia sin dai tempi di Ptolomeo ma l'utilizzo di questi strumenti non è lo stesso dei globi celesti il cui uso non spiega nell'epitome e le spiegazioni di questi strumenti che lui dà sono essenzialmente rivolte ad un uso fondamentalmente astrologico finalmente quando parla delle comete dichiara senza timore quella che è stata la linea guida di tutta la sua opera dover soddisfare la curiosità degli studiosi infatti nell'elencarle sino dalla prima cometa osservata mentre il diluvio universale copriva la terra dichiara di voler toccare alcuno dei loro più strani e maravigliosi effetti talvolta fausti ma per lo più funesti quali nascita o morte di sovrani principi o signori oppure battaglie e terremoti inondazioni tutto questo come aveva dichiarato per soddisfare la curiosità curiosità che evidentemente andava appagata mettendo in evidenza gli influssi astrologici e non le nuove scoperte che stavano a Veneto sono questi aspetti però che insieme alla mancata attenzione alle tematiche contemporanee di cui abbiamo parlato fanno perdere all'opera astronomica di Coronelli quell'immagine di modernità che altri invece gli avevano riconosciuto e che fanno apparire maggiormente il carattere dell'autore sempre attento a far risaltare la propria figura e a stupire il lettore per la sua erudizione ma senza correre il rischio disporsi a critiche con l'adentrarsi in campi pericolosi o addirittura forse da lui poco conosciuti dicevo prima che la terza parte dell'epitome merita un discorso a parte infatti in quella sezione Coronelli descrive le tecniche di costruzione e il modo di utilizzare quei globi che gli consentirono di raggiungere la fama e i titoli cui tanto aspirava stamattina avete sentito dei interventi molto interessanti riguardo alle tecniche di costruzione dei globi che vi sono state presentate per cui mi limiterò a ricordare che l'opera di Coronelli si inserisce in un filone di produzione di globi ricoperti da fusia stampa che è iniziato a metà del Cinquecento il cui massimo esponente può essere considerato l'olandese Blau allievo di Tico Brae esperto nell'astronomia oltre che nella stampa una produzione di globi che raggiunse il suo massimo proprio nel 6-700 grazie anche al lavoro dei Coronelli per la necessità di rifornire di strumenti adeguati sia gli studiosi che i militari e i naviganti come si era detto nel grande globo celeste realizzato per Luigi XIV la posizione delle stelle è riferita al giorno della nascita del re mentre nei globi successivi l'epoca prescente l'anno 1700 secondo la consuetudine astronomica dell'epoca come base per le costellazioni e le stelle presenti nei suoi globi Coronelli utilizzò le contemporanee e diffusissime carte d'Ussiel dell'architetto del re Agustin Rouvaillet ispirate dai globi del Blau e anche l'imponente atlante di Bayer Uranometria aggiungendo alcune stelle prese da osservazioni successive tra le quali quelle di Allie e Deveglius come anche stamattina vi è stato spiegato i nomi delle costellazioni e delle stelle sono in italiano latino e francese anche in greco arabo ed ebraico grazie alla collaborazione dei artisti di fama e li abbiamo sentiti chi erano dei pittori ed incisori il risultato dei globi celesti di Coronelli è indubbiamente di grande effetto sono dei globi bellissimi spettacolari vi sono riportate numerose comete le stelle 9 con l'indicazione degli astronomi che li hanno osservate con la data delle osservazioni ma esaminando nel dettaglio le caratteristiche di tutto questo e confrontandole con le tavole riportate nell'epitome si vedono diverse imprecisioni da numeri di stelle ripetuto mancanti a errori nelle posizioni a identificazioni scorrette di alcune comete stelle 9 a imprecisione nella traduzione di alcuni nomi probabilmente non tutti questi errori sono dovuti lo stesso coronelli ma alcuni potrebbero anche essere stati provocati dal disegnatore o dall'incisore o da qualche suo collaboratore certamente la sua enorme ma anche come abbiamo sentito frenetica attività lo distoglieva dall'eseguire quei controlli puntuali che ci sarebbero dovuti svolgere con la cura necessaria e la stessa cosa va detto si riscontra anche in gran parte dei suoi libri cioè genericamente una sorta di vasta confusione in molte cose inoltre siccome a quei tempi c'era un certo dibattito sulle studiosi anche di questo stamattina se ne è parlato se fosse meglio proseguire come da sempre si era fatto rappresentando la volta celeste non è venuta bene la volta celeste vediamo se viene ok rappresentando la volta celeste come visto dal di fuori quasi come se fosse osservata da un essere esterno superiore divino come si era fatto fin dai tempi dei greci fin dalle prime raffigurazioni che conosciamo come quella dell'Atlante Farnese oppure come alcuni stavano iniziando a proporre proprio alla fine del seicento come agli occhi appare cioè come osservata dall'interno con una visione uguale a quella che appare a chi dalla terra contempla il cielo stellato la differenza non è solo prospettica ma è anche indicativa di un cambio di paradigma nella centralità dell'uomo nel cosmo e sul suo rapporto con chi lo osserva e lo regola dall'alto incerto su quale scegliere o forse desideroso come sempre come abbiamo visto nelle sue cose di fare tutto e ancora di più il Coronelli costruì i suoi globi in entrambi i modi alcuni con la sfera celeste come vista dall'esterno quelli cosiddetti convessi altri come vista dall'interno i cosiddetti concavi però sta di fatto che per fare i globi o per fare anche un Atlante o una stampa o una qualunque figura di una costellazione o di un gruppo di stelle in un modo o nell'altro bisogna invertire l'immagine e quindi è chiaro che evidenti i motivi di risparmio sulla duplicazione delle immagini fatte come vista dall'esterno o come vista dall'interno e quindi anche sulla duplicazione dei costosi rami per la stampa hanno fatto sì che nei globi concavi cioè visti dall'interno alcune figure non sono state modificate e appaiono di schiena cioè come se fossero viste dall'esterno altre furono stampate a rovescio addirittura con il curioso risultato di far apparire i personaggi tutti i mancini come come vedete in Orione che mentre nel globo di sopra si intravede perché la fotografia lo taglia si intravede che regge l'arma con la destra nell'altro invece la regge con la sinistra o la stessa cosa la si vede nel sagittario che è chiaramente mancino mentre la raffigurazione classica per esempio quella dell'Atlante arabo di Al-Soufi fa vedere come la figura del sagittario che è ovviamente invertita però qui non è mancina a nord del vero va detto che anche diversi Atlanti dell'epoca presentano la stessa confusione nel modo di presentare le figure come abbiamo detto un globo celeste non è solamente uno splendido oggetto artistico ma anche ed era nato per questo uno strumento utile per risolvere gran parte dei problemi di astronomia sferica non mi allungo per spiegare queste cose perché vi annoierei e confesso che mi annoierei anch'io e quindi detto molto rapidamente i reticoli disegnati sul globo rappresentano i sistemi di coordinate astronomiche in questo modo noi possiamo riprodurre ruotandolo inclinando il suo asse di rotazione le variazioni di posizione degli oggetti celesti nel corso del giorno nel corso dell'anno a seconda delle diverse latitudini dell'osservatore fare delle misure molto più rapidamente come anche questo è stato detto stamattina su un globo invece che su una carta piana e con maggiore accuratezza e così via nell'epitome terzo libro dove spiega come funzionano e come si usano i globi terrestri Coronelli si dilunga a spiegare quanti notizie e quali novità sono riportate sui suoi globi celesti ovviamente pieni di erudizione e anche quali siano gli influssi astrologici abbiamo visto ma non fa alcun cenno come usarli praticamente quindi mentre il nostro non appare a disagio nelle parti più decisamente geografico meglio cartografiche quando deve avvicinarsi all'aspetto astronomico le lacune che emergono nei suoi scritti lasciano supporre un deciso scemare di attenzione o di interesse se non una vera e propria mancanza di competenza ma non possiamo dirlo perché non si è addentrato nei dettagli di molte cose la cosmografia scrive nella prima pagina dell'epitome ebbe il nome dalle due voci greche cosmos e grafis cioè mundi descripso allora anche a noi direi che piace ricordare Coronelli come cosmos grafos cioè cosmografo come anche lui amava firmarsi cioè proprio come descrittore piuttosto che come studioso del cosmo grazie 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 professor Bonoli lascio immediatamente la parola a Flavia Marcacci che insegna storia del pensiero scientifico nella facoltà di filosofia della Pontificia Università Lateranense a Roma la sua relazione ha per titolo di astri pianeti e della loro sostanza il libro primo dell'epitome cosmografica di Coronelli attendo il caricamento ecco qua allora grazie grazie a tutti grazie dell'invito e soprattutto al collega e maestro va detto professor Bonoli che mi ha anticipato in effetti non potrò che non solo confermare e mettermi sulla stessa linea e spero anche integrare notando altri aspetti relativi al primo libro dell'epitome vediamo si funziona eccoci qua allora già appunto il professore ha sottolineato il valore per un certo verso enciclopedico dell'epitome dall'altra parte anche mancante di alcuni aspetti in quanto reso conto a volte scarno di quelli che dovevano essere i problemi maggiori dell'astronomia del tempo e mi aggancio subito a quanto dirò anche nella conclusione ricordando che appunto siamo in un'epoca particolarmente calda per l'astronomia citava prima il professor Bonoli il 1687 come opera della pubblicazione dei principi a matematica di Newton che in genere vengono visti come il momento conclusivo della rivoluzione astronomica della rivoluzione scientifica in quanto con il principio con la gravitazione universale con la legge di gravitazione universale si risolve da un punto di vista teorico la contesa la diatriba tra il sistema eliocentrico copernicano e il sistema tolemaico in realtà andando a guardare più da vicino cosa veramente accadde in quel secolo e poco più che separava l'opera di Newton dal 1543 il momento in cui Copernico pubblicava il De Rivoluzioni Busorbium Celestium ecco andandola a guardare più vicino c'è un anno che fa da spartiacque quel 1609 anno in cui Galileo pubblica il telescopio verso il cielo e dunque nell'astronomia c'è una grandissima rivoluzione semplicemente per il fatto che abbiamo moltissimi nuovi dati osservativi e dunque quello che diciamo veniva conosciuto come modello del mondo tolemaico fondamentalmente o copernicano comincia ad avere nuovi problemi non solo legati al fatto che era comparso anche un terzo sistema di mondo quello di Tico Brahe e che dopo vedremo ma soprattutto legato al fatto che questi sistemi di mondo dovevano fare i conti con il telescopio con nuovi dati allora che cosa fa nell'epitome il nostro Coronelli beh va a guardare a trattare come diceva appunto il collega prima moltissimi aspetti tecnici legati proprio alla costruzione dei globi terrestre e celeste allora qui proprio prima di venire insomma è rivenuto in mente un bellissimo passo di Strabone dove si comprende fin da subito come mai geografia e astronomia erano intrinsecamente legate scriveva Strabone nella sua essenza la geografia tocca insieme lo studio della cosmografia e quello della geometria unendo ciò che vive sulla terra e quello che si muove nel cielo riconducendoli ad unità come se fossero assolutamente vicini e non separati come il cielo lo è dalla terra qual era l'idea fondamentale anzi diciamo le due idee che vorrei sottolineare adesso beh da prima il fatto che da un punto di vista ideale le linee immaginarie che ci permettono tuttora di orientarci sul cosmo sul globo terrestre e sul globo celeste sono in stretta corrispondenza tra loro quindi c'è un orizzonte terrestre c'è un orizzonte celeste ci sono i meridiani terrestri ci sono i meridiani celesti e così via quindi la questione è schiettamente tecnica c'è una corrispondenza tra il modo con cui tracciamo queste linee di orientamento in cielo e quelle con cui dobbiamo tracciarle sulla terra ma attenzione c'è anche un principio squisitamente filosofico cioè il fatto che è proprio la matematica e in particolare la geometria è detta alla medievale la scienza della sfera o scienza dello sfero che permette di comprendere l'unità ovvero la totalità del cosmo non a caso una grandissima rivoluzione che si sta avendo nel seicento è quella di comprendere il rapporto tra la fisica e la matematica in quanto il filosofo della natura è sì filosofo ma in qualche modo deve dialogare anche con chi esercita la matematica di professione gli astronomi sono più matematici che filosofi solo che questi astronomi devono utilizzare devono inventare una matematica a servizio della anche dell'astronomia e quindi della descrizione del cosmo per la prima volta in maniera veramente importante rispetto a quanto era avvenuta nei secoli precedenti questa matematica comincia a collochiare strettamente anche con la filosofia della natura tanto che per esempio in ambiente gesuitico si parlava frequentemente dei fisico-matematici quindi una classe di professionisti della matematica che avevano particolar cura dei concetti filosofici allora andiamo a guardare i contenuti del primo libro dell'epitome lì purtroppo si legge male io l'ho sul cellulare ma vi esplicito vi condivido un po' alcuni di questi titoli dei capitoli del primo libro dell'epitome si inizia degli assi e poli del mondo degli circoli maggiori delle quattro circoli minori e così via questioni tecniche come diceva il professor Bonoli Coronelli su questo ci sa fare sa dare le giuste indicazioni è sintetico ma è preciso è un uomo che esercita il suo mestiere lo sa fare è qualcuno che sa governare l'arte tecnica ma quello che colpisce andando un po' più avanti è che intorno al capitolo 10 inizia a parlare della materia e fabbrica del mondo secondo gli antichi materia e fabbrica del mondo secondo i moderni e poi un discorso sui sistemi di mondo allora scolpisce subito che qui capitolo dodicesimo vengono introdotti i vari sistemi di mondo lì c'è il sistema di Tolomeo ci torneremo tra un attimo ma proseguo semplicemente ricordando che questa sensibilità di Coronelli dovrà dirci qualcosa qualcosa che ci mostra un Coronelli che non è filosofo della natura assolutamente no ma è cerca di informarsi su ciò che sta avvenendo tra i filosofi della natura per quale motivo perché c'è un'ansia c'è un'ansia di reforma nel Seicento che non è solo la reforma del cosmo grande del cielo perché c'è stato Galileo eccetera ma è anche una reforma di come si scrive il mondo e quindi c'è il tentativo di andare ad escrivere sempre in miglior modo il vecchio mondo fino al nuovo mondo queste sono delle carte che lui produce all'interno dei suoi testi esco un attimo fuori dal percorso che sto cercando di seguire per mostrare questa che è la vista della totalità del cosmo presente nell'Atlante Veneto qui riprodotto diciamo ricostruito con l'informatica e basta perché altrimenti nell'Atlante Veneto le troviamo separati che cosa ci dice però che ancora c'è all'interno della professione dell'astronomo del geografo e così via questa attenzione alla totalità che è quanto di più tipico era del mestiere del filosofo della natura quindi questa idea di dover costruire una totalità prima appunto il moderatore introduceva l'idea l'importanza dell'idea della sfera ci sono moltissimi motivi di tipo tecnico e matematico per cui non si poteva rinunciare alla sfera e al circolo su cui adesso sorvolo necessariamente c'erano anche dei motivi di tipo filosofico ed era quindi necessario comprendere il valore della sfera si parlava anche di sfera intellegibilis per esempio in Cusano allora andiamo a questi capitoli che hanno una posizione un po' particolare nella nostra epitome capitolo 10 e capitolo 11 della materia e fabbrica del mondo secondo gli antichi secondo gli antichi non riproduco tutte le opinioni che vengono riportate dal coronelli ricordo Aristotele che cosa dice di Aristotele collocò i quattro elementi sotto al cielo dando il primo luogo al fuoco poi all'aria l'acqua e la terra che situò nel centro voleva che i corpi celesti avessero un moto circolare e i sublunari in linea retta cioè che le cose pesanti tendessero verso il centro e le leggeri verso la circonferenza chi ha in mente un po' qual'era la filosofia della natura aristotelica capisce che in quattro righe in effetti ha dato le informazioni essenziali andiamo un attimo a vedere che cosa ci dice dei moderni anche qui non cito tutte le opinioni mi limito a ricordare cosa dice di Renato Descartes scrisse che la materia del cielo sia fluida e che Dio l'abbia in istanti creata nella sua maggior perfezione tale quale essere doveva aggiugne che la materia distesa che compone l'universo non ha limiti che in qualche luogo ove noi la supponiamo potiamo soggettarla alla nostra immaginazione di là e qui è veramente l'idea che c'è un modello geometrico e in questo caso anche filosofico che ci permette di accedere all'inaccessibile di spingere l'immaginazione oltre gli spazi indeterminati da noi non solo immaginati come li concepiamo con la mente sostiene che la terra e i cieli siano fatti di una materia medesima attenzione cieli e terra la materia medesima è al corrente del fatto che ormai si accetta che questa la materia celeste terrestre non può essere più separata e dunque occorre una stessa fisica per i cieli e per la terra e quando anche quando vi fossero infiniti mondi non sarebbero che fabbricata di quella qui ci sarebbero veramente tantissimi rilevi da fare perché questa idea della molteplicità dei mondi è estremamente presente sia nei testi di Descartes eccetera ma anche negli astronomi che cercano in questo momento di allargare i confini del mondo perché il telescopio spesso col professor Bono abbiamo parlato anche di questo ma chiaramente i telescopi del tempo hanno dei limiti intrinseci però c'è comunque un tentativo facilmente documentabile di questi astronomi di ampliare la capienza del cielo quindi c'è un'ansia dell'infinito che ha anche un riscontro di tipo costruttivo che si cerca veramente di calcolarla questo cosmo andiamo avanti di nuovo altri problemi filosofici della sostanza delle stelle e dei pianeti secondo gli antichi e secondo i moderni si sta parlando della sostanza attenzione questi sono capitoli che mi sembrano unici all'interno dell'epitome e adesso tutta la produzione di coronelli non lo saprei dire con certezza ma sicuramente nell'epitome sono capitoli che trattano problemi di filosofia naturale per quale motivo? perché se la matematica deve dare ragione dei moti dei cieli e dare le descrizioni geometriche che giustificano il posizionamento delle stelle bene è lecito chiedersi che tipo di sostanza corrisponde a quegli oggetti celesti per potersi comportare così attenzione questa domanda questo è importantissimo perché per esempio in Ptolomeo domande di questo genere non le troviamo negli antichi c'era una separazione più netta invece adesso nel 600 è continuamente si mischiano continuamente il livello strettamente tecnico geometrico e matematico con quello appunto tipico della filosofia della natura e eventualmente ci torno dopo per sottolineare un altro aspetto importante allora qual è il problema di Coronelli che cosa sta cercando di dire il professor Bonoli già spiegava un po' le concezioni cosmologiche di Coronelli quindi assolutamente non ci torno sopra ma questa pagina tratta dall'Atlante Veneto e non dall'epitome è quanto mai significativa perché qui Coronelli sta mettendo a confronto i diversi sistemi del mondo attualmente proposti ora giustamente diceva il professore non ci sono discussioni intorno a quelli che erano i problemi principali dell'astronomia che erano la determinazione del raggio della distanza tra il sole e la terra in particolare una discussione su Newton su Newton scusate eccetera ma il fatto che ci sia un resoconto su questo dibattito mi verrebbe da interpretarla in questo modo poi prendetela così come un'ipotesi interpretativa come dire non informo su tutto informo sulla cosa che al momento mi sembra più importante guarda caso dopo la pubblicazione dopo il telescopio e dunque il moltiplicarsi della raccolta dei dati osservativi il dibattito su quale fosse il vero sistema di mondo era diventato feroce solo che il vero sistema di mondo non era più questo dibattito diciamo tra due contendenti Tolomeo da una parte e Copernico dall'altra ma era essenzialmente da un punto di vista tecnico su il cosmo di Ticobrahe e il cosmo di Copernico un cosmo egliocentrico e dopo c'erano altri derivati tanto che nell'epitome a un certo punto Coronelli scrive io darò conto di questi quattro sistemi e adesso vediamo quali che hanno tantissimi seguaci e ogni seguace ha tenaci ragioni ecco ma da un punto di vista tecnico ho motivi per dire adesso non abbiamo tempo che il problema fondamentale era tra la soluzione egliocentrica e quella semigeocentrica di Ticone e Epigoni andiamo un attimo allora a vedere quali sono questi sistemi di mondo da una parte abbiamo Tolomeo la Terra al centro e il sistema dei vari pianeti qui per esempio Coronelli non cita minimamente tutte le varianti che c'erano dei sistemi geocentrici varianti che possiamo trovare in Fracastoro e derivati dei sistemi platonici dove quello che cambia sostanzialmente è l'ordine di presenza di Mercurio e Venere quindi è una è una questione proprio di ordine Luna Mercurio Venere e Sole ecco cambia qualcosa di dentro c'erano altre varianti di questo sistema Coronelli non dice nulla andiamo anche con Copernico questo è il classico sistema di Copernico vediamo la Terra con il suo satellite lunare e come diceva il professor Bonoli proprio su questo sistema Coronelli si sofferma un po' di più andiamo allora al sistema semigeocentrico o geo egliocentrico che dir si voglia di Ticobrache abbiamo il Sole al centro e la Terra al centro scusate il Sole che ruota intorno alla Terra e tutti i pianeti intorno al Sole ora qui ce ne sono abbiamo tantissime varianti dei sistemi geo geogliocentrici non posso non citare perché ho proprio pubblicato da poco un libro su questo la proposta più importante in Europa prima di Newton di sistemi geogliocentrici che è quella del gesuita Giovanni Battista Riccioli che guarda caso come diceva il professor Bonoli Coronelli tiene in grandissima considerazione perché noi ritroviamo i volumi di questo di questo gesuita bolognese astronomo fino a Londra ecco sono volumi conosciuti ed utilizzati dagli astronomi di tutta Europa in questo momento e quindi andiamo a concludere l'universo di Descartes perché è importante secondo Coronelli beh perché in fondo Descartes vuole dar ragione a Copernico ma evita di dire che la Terra necessariamente si muove cioè localmente rispetto ai vortici che sono determinati dalla materia celeste che è una materia particolarmente fine diffusa ovunque la Terra in qualche modo è localmente stabile e quindi cerca un po' questo compromesso il nostro Descartes la cosa interessante in questo in questo senso che l'universo di Descartes da un punto di vista geometrico si attiene in maniera interessante vicino a quello di Copernico le soluzioni filosofiche sono estremamente raffinate ma come erano raffinate le soluzioni di tutti quegli astronomi che più di Coronelli questo va detto si impegnano anche a trovare interpretazioni filosofiche che giustifichino le loro geometrie anche qui brevemente mi piace citare quella di Riccioli semplicemente perché è diversa da quella di Descartes quindi con Descartes abbiamo comunque un sistema eliocentrico con una giustificazione filosofica Riccioli che aveva un sistema geo-eliocentrico immagina che la materia dei cieli fosse localmente corruttibile e lo fa utilizzando la metafisica aristotelica perché localmente corruttibile ma perché ci sono le comete l'ha dimostrato Tico Brahe non è possibile pensare ai cieli solidi è assurdo quindi localmente ci sono le comete passano ci sono delle stelle nuove che appaiano localmente la materia celeste deve poter variare ma globalmente è incorruttibile perché beh perché Dio nella totalità del cosmo deve poterla aver creata e conservare in maniera incorruttibile in maniera che non sia corrotta quindi ecco per dire che queste soluzioni filosofiche intermedie prima di Newton prima che arrivasse il principio fisico che ponesse fine alla diatriba sono estremamente raffinate ed articolate ecco qua il sistema di Descartes scusate non avevo fatto oh e qui allora qui purtroppo non si vede non si vede bene ma vado verso le conclusioni perché questo questo ho evidenziato queste due tabelle beh prendiamo confidenza con il fatto che in testi come l'epitome o comunque tutti i testi e manuali dell'astronomia di 5-600 tantissimo spazio è riservato alle tavole osservative cioè si registrano dati si registrano numeri ma perché? perché i numeri devono dar ragione nel modello beh insomma c'è veramente come si parla del metodo sperimentale per Galileo ma da un punto di vista del doversi attenere al dato numerico ecco già c'è una reale attenzione in questi in questi qui in particolare viene riprodotta la tavola delle longitudini e mi ha colpito proprio per il problema che sottolineava anche il professor Bonoli che mancano degli aggiornamenti su tantissime questioni in coronelli ma a un certo punto ha trovato la tavola delle longitudini perché? c'è un motivo l'astronomia antica quindi da Tolomeo in poi fino a Copernico ancora a Conti Cobrae aveva fondamentalmente a che fare doveva fare i conti con due famiglie di problemi si chiamavano la prima e la seconda in ugualianza o prima e seconda anomalia la prima era collegata al problema della variazione di velocità del passaggio degli oggetti celesti quindi dei pianeti delle stelle sulla volta celeste ed era in relazione con la rivoluzione sinodica la seconda anomalia era quella che molto più comunemente forse è conosciuta perché vengono riportate molte immagini anche nei testi anche universitari eccetera ha a che fare con il fatto che a volte i pianeti sembravano dover tornare indietro e fare una specie di cappi sul cielo e quindi era il problema delle retrogradiazioni ora queste retrogradiazioni erano questioni di longitudine cioè bisognava calcolare bene poi se sbaglio il professor Bonoli mi correggerà erano proprio un problema tecnico cioè bisognava collocare bene la dimensione le posizioni longitudinali e perché tanto bene venne citato Riccioli perché in effetti Riccioli era considerato colui che aveva ripreso molto acutamente i testi di Ticobrae e l'aveva studiato approfonditamente li aveva corretti sicuramente aiutato dall'assistente Grimaldi e aveva prodotto tra le migliori tavole osservative del tempo quindi non è banale che in effetti Coronelli riporti esattamente le tavole delle longitudini affiutato che qualcosa di diverso rispetto a tutto il resto lì probabilmente c'era anche qui sarebbe interessante cercare di capire che ma come diceva prima Fabrizio lo evito perché altrimenti ci annoiamo tutti forse gli unici che non ci annoiamo saremmo noi quindi ecco chiudo il discorso dicendo che Coronelli era un uomo egregio dal punto di vista delle sue conoscenze tecniche almeno nell'epitome tenta di fare i conti con il problema filosofico che le nuove tecniche dei cieli ponevano chiaramente non dà le sue soluzioni quindi vediamo solo che cercava di essere informato ma seleziona ciò su cui vuole informare e ciò su cui invece probabilmente sbagliando non va ad informare qui non si muove più nulla ma non importa perché tanto avevo finito c'era ecco qui va bene ecco qua scusate comunque mi sembra che ci fosse solo il grazie finale quindi non è un problema se ecco sì appunto va bene appunto così grazie 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 alla professoressa Marcacci proseguiamo allora speditamente abbiamo accumulato un lievissimo ritardo io passo subito la parola a Paolo Capitanucci che è più di casa dato che è docente presso l'istituto superiore di scienze religiose di Assisi e presso l'istituto teologico di Assisi oltre che collaboratore della Basilica del Sacro Convento cambiamo lievemente diciamo così oggetto di discussione la sua relazione ha per titolo il sogno enciclopedico di padre Vincenzo Coronelli allora non si senta io perdonate ma parlerò in piedi per questioni cinetiche non riesco a stare seduto e parlerò per ultimo e parlando per ultimo innanzitutto saluto tutti e ringrazio tutti della presenza ma parlando per ultimo naturalmente sono costretto a più o meno taciti aggiustamenti che cosa significa avevo in mente una linea probabilmente non la seguirò e cercherò di essere come Coronelli che ha avviato tante virgolette aziende diverse spesso non concludendo nemmeno uno la mia sarà una apologia di Coronelli nel momento in cui tutti hanno detto che era un astronomo che si serviva ma sotto certi aspetti mediocri dal momento che tutti hanno detto che forse come persona non era un gran che riprenda con le sollecitazioni e rifaccio la mia scaletta perdonatemi uno perché ho superato i 30 anni e dopo i 30 anni la memoria cala lo stesso Coronelli nell'enciclopedia quando parla di medicina asserisce che dopo i 30 anni la memoria cala drammaticamente e quindi se ci sarà qualche defaianza spero mi perdonerete e poi vorrei ripartire appunto da queste suggestioni allora partiamo da padre Bertazzo grande maestro di studi franceschiani ha richiamato Coronelli e l'inquisizione va bene il fatto che Coronelli nella biblioteca abbia messo delle cose che poi non erano così consentite eccetera eccetera mi permetto nel corso della discussione di richiamarmi a questo aspetto qui padre Felice Coronelli è un uomo incapace di costruire relazioni certamente è vero se ci si riferisce al convento ma la storia di Coronelli dimostra che la sua vita è un intessere relazioni diverse con re con signori con vescovi con cardinali quindi diciamo che siamo all'insegna della contraddizione il professor Bonoli richiamava l'utilità del Coronelli e quindi il fatto che parta con la con il pensiero di un almanacco uno strumento utile perché dava indicazioni pratiche e sempre il professor Bonoli faceva riferimento al Coronelli che nonostante nella biblioteca sacro profana affronti questioni legate all'astronomia certo non come nell'epitome però certamente getta uno sguardo apparentemente insensato sulla pratica astrologica Coronelli dedica mezza colonna all'astronomia nonostante fosse astronomo e cosmografo dedica quattro colonne all'astrologia quando parla dell'astrologia la divide in astrologia giudiziaria la divide in astrologia medica sembra di conoscere molto bene questo argomento cominciamo l'apologia per cominciare l'apologia vorrei inserire il nostro Coronelli nel filone va bene tutto francescano dell'interesse appunto di molti frati nei confronti della scienza adesso se non riesco chiedo aiuto a Flavia casomai quello verde quello verde ok cominciamo dal questo è il frontespizio lo vedete tutti della sua biblioteca sacro profana probabilmente la prima enciclopedia in lingua italiana ordinata in ordine alfabetico guardiamo come vedete al centro c'è il padre Coronelli intorno a lui i globi strumenti di misurazione strumenti astronomici dietro una biblioteca adesso voi naturalmente non potete vederlo ma fidatevi tutti i libri esposti in biblioteca sono suoi libri quindi certamente era un grande ma non era un modesto in ginocchio di fronte al papa offre stiamo parlando di clemente undicesimo di fronte al papa offre la sua biblioteca sacro profana ebbene a me viene in mente un'analogia nel medioevo un altro grande francescano si non dico si inchina ma si rivolge al papa per proporre un modello di conoscenza universale mi sto riferendo a Ruggero Bacone si tratta di un altro papa sempre un clemente clemente IV come coronelli così Bacone pensano una scienza una conoscenza diciamo così al servizio andiamo avanti la biblioteca è vero così il Tiraboschi la definisce è una cozzaia di informazioni certe volte senza un apparente filologico il Tiraboschi dice che è quasi un'opera di cui è inutile la lettura va bene anche qui dovrò fare l'apologia del coronelli e come la facciamo l'apologia del coronelli andando a vedere che cosa il coronelli dice della sua biblioteca allora essendo io nemico di questi strumenti essendo molto antico probabilmente molto più antico del coronelli ho stampato un pdf della biblioteca io sto leggendo il coronelli va bene nella forma in cui il coronelli ha pensato sentite che dice della sua biblioteca in questa cioè nella biblioteca con facilissimo metodo ogni arte ogni scienza potrà ritrovare i suoi termini e farà comodo a ciascheduna condizione di persone il fornirsi derudizione delle quali essa è un ricchissimo erario speriamo speriamo altresì che non la sdegneranno le pubbliche librerie mentre l'obbligo derze e feconda di tutte le materie nel possesso di quella sola sarà bastantemente adempito e forse le critiche le filologie il confronto dei dotti poi che desiderano più alimento nel rintracciare la verità delle cose sapranno dove ricorrere per gli autori che si citano gli ignoranti saranno soddisfatti di ciò che tutti avranno profitto qual è l'idea di coronelli ragioniamo su questo prima di valutare positivamente o negativamente coronelli coronelli ha l'idea di uno strumento che chiama biblioteca perché fornisce lo strumento minimo essenziale per la formazione di qualsiasi individuo dice chiaramente la biblioteca servirà ad i dotti magari poi approfondiranno servirà ai non dotti ai semplici perché così avranno quel minimo che gli basta per poter vivere tranquillamente allora un'altra suggestione sempre prima parlavamo del rapporto di coronelli con questo grande maestro medievale il dottor Mirabile Luggiero Bacone il padre della scienza sperimentale un altro sempre francescano sempre sulla stessa linea di coronelli è stato celebrato l'anno scorso l'anno scorso era il centenario della morte si chiamava Luca Pacioni già tremo al pensiero che il prossimo anno non ci siano centenari sentite che dice il Pacioni armato va bene dalla stessa volontà di divulgazione scientifica che anima il coronelli Pacioni siamo nel cinquecento produce opere di matematica di divulgazione matematica come coronelli scrive in volgare sentite che dice perché ci spiega va bene il perché del volgare in materna et vernacula lingua mi so messo a disponerla in modo che letterati et vulgari oltra utile ne haranno grandissimo piacere in essa esercitandosi eccolo lo spirito francescano che emerge nella biblioteca del coronelli uno strumento che serve a tutti potremmo dire che se coronelli non è stato grande come astronomo non è stato grande come cosmografo certamente è stato uno dei primi efficaci divulgatori scientifici andiamo a vedere qualche voce della biblioteca del coronelli così per divertirci un po' il tempo è breve quindi cercherò di essere molto veloce in questo ma procederò con lo spirito con cui si sarebbe mosso macchiavelli quando scrive al vettorio e gli dice la mia passione più o meno traduco è discutere con i classici noi colonielli lo stiamo guardando cerchiamo di discutere con lui va bene allora se qualcuno avesse chiesto a coronelli ma padre vincenzo qual è secondo te la conoscenza che l'uomo deve avere va bene della medicina qual è la conoscenza che l'uomo medio deve avere dell'astronomia qual è la conoscenza che l'uomo medio deve avere della storia ecco che a tutte queste domande anche se non in maniera esaurente il coronelli dà una minima risposta prima si è parlato del cielo io parlerò della terra e quindi mi concentrerò soprattutto sulle voci che lui dedica alla medicina alla chimica che una volta era alchimia e anche mi consentirete ma così per parlare tra noi poi per le cose specifiche ci saranno gli atti vedremo anche quello che il coronelli pensava di qualche filosofo anche di qualche filosofo discusso e lì ci sarà da divertirci allora cominciamo con elencare alcune voci cerchiamo di assaporare insieme mi rendo conto che è difficile non avendo il testo davanti cerchiamo di assaporare insieme come il coronelli struttura come pensa questa enciclopedia non è semplice da capire perché è l'uomo della contraddizione l'abbiamo detto prima ma forse le sue voci possono aiutarci per quanto riguarda le conoscenze pratiche mi ha sorpreso profondamente vedere che il coronelli dedica una voce siamo scusate è l'enfasi ho dimenticato di dirvi che questa enciclopedia sacro-profana che coronelli pensa va bene già alla fine del 600 ma che vede la luce formalmente per la prima volta nel 1701 e che lui pensa pensate scusate la ridondanza in 45 volumi non so se fortunatamente o sfortunatamente si ferma al settimo quindi alla lettera C e quindi abbiamo poco a che vedere va bene ci fermiamo alle prime lettere allora alla lettera A c'è una voce che recita io vengo dalla famiglia di artigiani e quindi questa cosa mi ha colpito profondamente c'è una voce che recita a spina di pesce tu vai a leggere questa voce e che cosa ti aspetterai io sono partito prevenuto perché certe cose le conoscevo coronelli spiega nel dettaglio come si fa la muratura a spina di pesce e null'altro ma guardate la particolarità la singolarità leggiamola insieme un'altra voce va bene alla voce albero pensa a una descrizione botanica dell'albero in realtà se uno va a leggere l'enciclopedia trova che alla voce albero lui riporta tanti esempi di tanti alberi diversi anche un albero chimico vi risparmio quello che c'è dentro ancora avanti si dice il coronelli appassionato di medicina eccetera eccetera ecco alcune voci la voce anatomia la voce arteria passiamo alla B la voce bubone anche quello descrive per quanto riguarda la medicina ogni volta che il coronelli descrive qualche pianta non evita mai va bene di non parlare delle sue proprietà terapeutiche che cosa interessava a coronelli interessava l'aspetto pratico l'aspetto francescano la scienza a servizio costantemente per quanto riguarda la voce alchimia dato che io da tempo ormai studio queste cose tutti lo sanno cioè non studio l'alchimia ma studio il rapporto tra i francescani e la chimica e l'alchimia me ne guardo bene mi sono permesso di fare un confronto tra la voce alchimia dei coronelli e la voce alchimia della ciclopedia di Chambers l'enciclopedia inglese va bene che fa da modello all'enciclopedia e la voce alchimia presente nell'enciclopedia di Diderot e D'Alembert allora innanzitutto rileviamo che se Coronelli è stato un pasticcione se Coronelli è stato un plagio va bene Coronelli ha avuto anche un'intuizione che quelli dell'enciclopedia va bene avranno 50 anni dopo perché con Coronelli siamo 1701 l'enciclopedia è 1751 va bene andiamo a vedere la voce alchimia ce l'avrei qui sotto ve la risparmio l'ho portata facendo un'altra scansione come prima vi dicevo allora vedrete che Coronelli comprende alcune cose perché probabilmente era un appassionato di medicina e certe cose le leggeva che quelli dell'enciclopedia e nemmeno Chambers intendono per esempio Coronelli fa una differenza tra la cosiddetta alchimia metallurgica o alchimia medicale aveva ben capito che c'era una linea trasformativa va bene un'alchimia dei metalli che poteva essere pericolosa c'erano i falzari e per questo condannata ma c'era anche un'alchimia medicale va bene un'alchimia che serve all'uomo una scienza al servizio averci tempo potremmo divertirci ma per quanto riguarda invece i personaggi che Coronelli affronta ma veramente questa è un'enciclopedia non solo nel senso del termine ma è anche una fucina di idee qualcuno potrebbe chiedere ma questa enciclopedia di Coronelli che tanti vedevano già superata un tempo può essere utile oggi? ecco io dico di sì perché? per quanto riguarda la scienza certamente l'hanno detto meravigliosamente bene il professor Bonoli e la professoressa Marcacci stava un po' indietro va bene l'enciclopedia nasce adesso l'enciclopedia senza aggiornamenti che cosa sono va bene quindi da questo punto di vista diciamo che il Coronelli non ci dà un contributo particolare però dove ci dà un contributo particolare? quando parla di autori sconosciuti io che cercavo di fare le pulce a Coronelli e invece me le ha fatte lui andavo a vedere se Coronelli avesse mai parlato va bene di qualche scienziato francescano a me conosciuto e ai molti sconosciuti a me conosciuto e a molti sconosciuti e mi veniva in mente dato che si parla della lettera A e lì possiamo andare avanti andiamo a vedere se il nostro Coronelli ci dice qualcosa di Bonaventura Angeli sfoglio il nostro Coronelli parla di Bonaventura Angeli chi era questo Bonaventura Angeli? a tutt'oggi ne sappiamo poco l'opera è poco studiata se ne è occupato un conventuale Bonaventura Angeli era un chimico era uno scienziato come lui che introduce in Spagna la medicina chimica e che diciamo così è un seguace della riforma paracenziana ecco Coronelli serve ancora a qualcosa se vogliamo sapere chi è Bonaventura Angeli e che cosa ha scritto Bonaventura Angeli oltre a tutti i repertori che già conosciamo gli addetti ai lavori sbaraglia eccetera eccetera c'è anche Coronelli Coronelli ancora serve l'ultima cosa e termino veramente non so io volevo essere disordinato e penso anche di esserci riuscito finiamo con alcuni rilievi su alcuni filosofi non solo francescani di cui si è occupato Coronelli allora dei filosofi francescani stranamente dice poco ecco la voce Bonaventura è interessante parte il fatto che probabilmente non è un appassionato di filosofia e lo si vede va bene la voce atto è scadente va bene infatti non so nella biografia si dice che al San Bonaventura abbia ottenuto la laurea in teologia in tre anni questo è il vero mistero va bene per come parla di filosofia ecco la voce atto è scadente però se uno va a vedere altri filosofi ti accorgi di come Coronelli dica e non dica quello che si diceva prima dica e non dica mi riferisco in particolare a filosofi come Giordano Bruno attenzione Giordano Bruno è presente nell'enciclopedia dei Coronelli vai a vedere che cosa si dice di Giordano Bruno naturalmente c'è una certa prudenza perché poi si dice è un autore condannato però lo definisce ingegno mirabile va bene allora uno dovrebbe capire perché lo dice ingegno mirabile e di fatti è ingegno mirabile perché prende una parte di Giordano Bruno considera il Giordano Bruno studioso di Raimondo Lullo va bene in quel caso poteva andare bene va bene si occupa di logica combinatoria e tutto il resto quindi non vorrei rubarvi altro tempo c'è il dibattito che attende e nel mio disordine spero di aver dato qualche idea in merito a ipotetiche piste di ricerca sviluppi futuri per un autore che utilizzo forse un termine che non rende molto bene ma perdonatemi al momento non me ne vengono altri per un autore che è tanto che è gonfio che è ridondante va bene e che ancora può darci tanti e tanti stimoli per la storia della scienza per la storia della cultura per la storia del francescanesimo e per la storia va bene che lui dice universale grazie a tutti grazie a tutti negli atti mi faccio portavoce credo di tutti quanti nel ringraziare i nostri relatori seguirà a breve credo il confronto il dibattito tra Vincenzo Paglia e Pier Giorgio di Freddi buon proseguimento di serata credo di sì c'è una pausa un quarto d'ora di pausa grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti